Cos'è il Cato Partner d'Italia? È stato un momento incredibile per noi per riunirci insieme ai nostri partner. Dopo due anni di nostra assenza con un evento del genere, è stato un evento incredibile. Tutti i nostri partner italiani, nuovi e storici, hanno partecipato, hanno dato il loro contributo, hanno ascoltato quelli che sono stati i nostri messaggi per loro. L'agenda è stata strutturata in un modo molto intelligente nel cercare di dare dei contenuti rapidi, efficaci, che possono essere spesi dai nostri partner sul mercato. Abbiamo raccontato che cos'è il SASE, abbiamo raccontato come Cato si integra in una proposizione SASE, abbiamo spiegato un po' come la nostra tecnologia si differenzia rispetto alle altre, quali sono le feature chiave della nostra architettura, dei nostri pop, del nostro backbone. E poi abbiamo ascoltato gli interventi dei nostri regional sales director che hanno raccontato come loro portano la tecnologia sul mercato, cosa dire per essere efficaci sui clienti finali e quali sono le leve da utilizzare con determinati interlocutori per essere interessanti con un approccio SASE. È sicuramente un format che ha avuto un ottimo successo e siamo grati ai nostri partner per aver partecipato. L'importanza di questo evento si incastra in quello che è il cuore pulsante della strategia di Cato Networks, che è il canale. I nostri partner, il nostro distributore, i cost sono fondamentali per la crescita dell'azienda nel territorio italiano. A me piace sempre dire che l'uno più uno quando si tratta di vendor e partner è uguale a tre, perché il valore, il risultato della somma della nostra tecnologia, delle capabilities, dell'expertise del nostro canale è molto superiore a quelli che sono i valori delle singole entità. Perché poi alla fine io credo che quando si uniscano una tecnologia completamente convergente di SASE, delle capabilities, dei servizi gestiti, la conoscenza del mercato, del territorio, delle dinamiche, e credo che lì inizi la magia, no? Quando si crea il servizio perfetto per risolvere i problemi dei nostri clienti. E quindi ancora una volta è il momento per i nostri partner di investire in Cato Networks. Il nostro obiettivo è investire in voi e qui il ruolo del nostro distributore Ecosimun è chiave, perché è la capacità di portare ai nostri partner le loro skill da value-added distributor, quindi da distributore a valore aggiunto i loro servizi, ci permette di lavorare come un team esteso, ci permette ai nostri partner, al nostro canale di interagire con noi e con il nostro distributore come se fossimo un team unico e ottenere la stessa esperienza di interlocuzione indipendentemente se si sta parlando con una persona di Cato o con una persona del nostro distributore Ecos. Grazie ancora al nostro distributore che è stato al fianco del nostro team e nell'organizzazione di questa giornata. Alla prossima, per il prossimo evento, sono certo che ne avremo tanti nei prossimi 12 mesi.